E' stato consegnato ieri sera al Teatro Metastasio il Premio Mediterraneo di Pace 2018, evento centrale nel cartellone del Festival Mediterraneo Downtown, che si concluderà domani con l'evento finale, sempre al Metastasio, alla presenza del blogger e scrittore Gabriele Del Grande. Il Premio Mediterraneo di Pace 2018, conferito in occasione della seconda edizione del Festival Mediterraneo Downtown, va a Benoît Ducot, Anne Moet, Muth e Pierre Manbert, tutti volontari dell'Associazione Two Migrants, per aver detto no. I vincitori di questa edizione sono quindi Benoît Ducot, la guida alpina indagata dalla magistratura francese per aver soccorso il 17 marzo scorso una famiglia di migranti al confine tra l'Italia e la Francia e i rappresentanti dell'Associazione Two Migrants di Brianson, che si occupa dell'accoglienza in questa zona di confine. Degli uomini, delle donne, dei bambini, delle famiglie che hanno il diritto di essere curati, di essere accolti. Noi siamo gli abitanti delle montagne che, da secoli, accompagnano coloro che devono attraversare la frontiera per mettersi al riparo. Gli abitanti delle montagne che sanno che non si abbandona mai qualcuno in difficoltà, che lì si apre la porta. Gli abitanti delle montagne che vanno incontro donano da mangiare e da bere a chi ha bisogno. Gli abitanti delle montagne che vanno incontro donano da mangiare e da bere a chi ha bisogno. Gli abitanti delle montagne che vanno incontro donano da mangiare e da bere a chi ha bisogno. Gli abitanti delle montagne che vanno incontro donano da mangiare e da bere a chi ha bisogno.